La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare. Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. La ricezione, metteci e saconi, che Antonini mi ha rotto veramente il cazzo. Volevo diventare il re dei mondani e ci sono riuscito. Io non volevo solo partecipare alle feste, volevo avere il potere di farle fallire. Grazie. Grazie.